Il sito di Apigliano, i cui resti più significativi si estendono per circa due ettari, è un villaggio medievale di terra d'Otranto abbandonato tra il XIV e il XVI secolo. Al suo interno vi erano originariamente quattro edifici di culto, ma oggi la chiesa di San Lorenzo è l'unico rimasto inelevato dopo l'abbandono del villaggio medievale. La chiesa risale all'età medievale e conserva i resti del pavimento originario, costituito in lastre di pietra calcarea di forma irregolare e levigata in superficie. Essa venne rasa al suolo nel 1582 per essere poi ricostruita, come si evince da un'iscrizione in greco, posta in facciata sull'architrave dell'ingresso. La presenza di 60 tombe e 24 fosse ossari presenti nell'area decente a quella della chiesa, lascia presagire di trovarsi di fronte ad un vero e proprio cimitero. Secondo alcune pratiche medievali, gli infanti trovavano sepoltura al ridosso del tetto della chiesa, in modo tale che l'acqua che scendeva dal tetto, benedetta dopo aver toccato l'edificio sacro avrebbe garantito alle sepolture un'ulteriore benedizione.